Domenico Mungo avete centrato il primo obiettivo della stagione se vogliamo, quello del passaggio del turno in Coppa Italia, bene anche per te che hai esordito contro il Gubbio dal primo minuto e soprattutto hai fatto un gran gol. Sì grazie, l'importante era oltre che assegnare e vincere era passare il turno e vincere tutti e due i partiti di Coppa Italia, ce l'abbiamo fatta e abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo. Ci racconti un po' questo gol, è stato forse anche uno schema se vogliamo perché voi lì davanti vi dovete proporre molto in profondità. Sì diciamo non uno schema però una cosa provata perché Messi ci aveva detto che erano loro sempre parecchio alti e con un'imbocata leggera come è stata ci trovavamo in porta e così è stato facendo uno o due vonne con Cianci mi sono trovato in porta e il portiere giustamente era fuori. Hai accarezzato il pallone. Sì era fuori diciamo una ventina di metri e bastava solo metterla sopra. Senti Domenico ormai è un po' di tempo che ti alleni con i tuoi nuovi compagni, nuovo tecnico, anche nuova società, facciamo un mini bilancio, come ti stai trovando? No mi sono trovato subito benissimo, il mister già lo conoscevo che ci ho giocato contro e ci ho avuto modo già di parlarci quest'estate. Con i tuoi compagni mi trovo benissimo, con tanti ci ho giocato pure contro e quindi per adesso diciamo tutto molto bene. E cosa ti aspetti da questa stagione a livello personale e di squadra? Personale sicuramente di fare il miglior possibile, darò sempre il 100% in tutte le partite e di squadra diciamo di raggiungere piano piano i piccoli obiettivi che ci... Play-off almeno? Sì, ci proviamo. Senti c'è questo esordio domenica contro il Catanzaro in trasferta, una delle grandi di questo girone, poi c'è il Bari, c'è il Catania, c'è la Regina e il Catanzaro, però c'è anche il Teramo. Certo, sicuramente loro partono favoriti perché oltre alla squadra l'anno scorso ci hanno analizzato una grandissima squadra, però noi non saremo da meno e faremo di tutto per portare i più punti possibili a casa ogni domenica. Come ti aspetti questo debutto, questo esordio di campionato? Speriamo con un risultato positivo. Bisogna partire col piede giusto? Sempre.